Ben trovato, buongiorno anche a te come facciamo nel weekend, pronti per l'intervista del venerdì. Oggi noi abbiamo nei nostri divanetti... Nino. Nino, Nino come? Nino da Napoli. Nino da Napoli, ci siamo in cognome che lo dobbiamo registrare. No, ho capito, Nino Rusciano. Oh, perfetto, da Napoli, Campano Doc, come il Soldino, l'abbiamo conosciuto, grande panzellettiere, protagonista di Apurea Scott Alert ieri sera, molto divertente. Ti chiediamo, ti sono con noi una settimana più o meno, ti chiediamo due tre punti importanti che vuoi sottolineare di questa vacanza a Puglia. Allora, tre punti secondo me sono pochi, perché ci sono molti punti, ma molti positivi, come dal ristorante, cipo buono, chef, molto bravi camerieri, barristi, tutto lo staff, ma perfetto. Veramente non cambierei nulla. Posto magnifico, piscina, stupenda, bagnini, tutti, tutti, tutti. Questo ci fa piacere che sottolinei tutti, perché a volte ci dimentichiamo che c'è una squadra enorme che dietro le quinte lavora, affinché la colazione, il franzo, il mare, l'esdraio, tutto quanto funzioni alla grande, il ricevimento, quando arrivate. Sono punti importanti che ve l'ho sottolineato, quindi ci fa enormemente piacere che lo vuoi descrivere in ogni dettaglio. L'anno scorso sei stato in Calabria? Sono stato in Calabria, sempre in una struttura dell'Apure Hotel e anche due anni fa. L'anno scorso sono stato a Stellia Marina, due anni fa e tre anni fa a Corigliano Calabro. Apure Hotel numero uno, lo consiglio a tutti perché oltre all'animazione vi dico mi trovo un amore, prezzo, qualità e convenienza. Io penso che sia uno degli ospiti più straordinari che abbiamo mai avuto nell'ultimo due settimane, uno sponsor eccezionale. Come diciamo sempre, chiudiamo le nostre interviste, c'è Apure Hotel!